Campobasso Roma in due ore e mezza con treni a movimentazione elettrica che arrivino a termini ma non al binario 20 bis e l'oggetto del doppio vertice di questa mattina presso l'assessorato ai trasporti, l'assessore regionale Vincenzo Niro ha incontrato in due incontri diversi l'ingegnere del vasto capodipartimento di RFI e l'ingegnere Diamantini di Trenitalia. Noi abbiamo ribadito che vogliamo portare e ridare ai cittadini molisani la stessa qualità che viene data agli altri cittadini delle altre regioni per cui per noi significa arrivare a stazione e termini partendo da Campobasso in due ore e mezza massimo di due ore e quaranta. Questo credo che è un obiettivo che è possibile raggiungerlo. Ho chiesto loro di fornirci la documentazione che attesti questo visto che siamo anche in una fase avanzata dei lavori sulla tratta, sulla elettrificazione, sulla velocizzazione della tratta Roccaravindola-Campobasso. Però, buon Dio, se velocizzare significa anche correggere i raggi di curvatura dei binari, significa sostituire le traverse, significa intervenire sui binari, sugli armamenti, sulle stazioni ferroviarie. Insomma, questo richiede un impegno notevole. Io sono convinto... Di cosa parliamo? Di quanto è l'investimento? L'investimento è quello degli 80 milioni che abbiamo già firmato alla Convenzione, per cui quello è l'investimento. Il tema è che quell'investimento probabilmente va aggiunto qualcosa che sta mettendo in piedi il sistema Rete Italia, quindi ferrovie dello Stato RFI, e riguarda l'armamento, riguarda la rete. Per quanto riguarda Trenitalia, hanno un contratto che scade nel 2023. Io ho ribadito loro che chiedo che quel contratto venga rispettato nei minimi particolari. Oggi non è rispettato e gliel'abbiamo ribadito stamattina. Dunque, treni che rispettano la natura e più veloci per garantire ai molisani gli stessi diritti dei cittadini delle altre regioni. Prossimo step il 21 gennaio, nel nuovo incontro, RFI metterà sul tavolo due proposte per completare l'elettrificazione. La prima prevede l'interruzione della linea e la conseguente erogazione del servizio con mezzi sostitutivi per completare l'ammodernamento in tempi più rapidi. L'alternativa, invece, è il mantenimento del servizio su rotaia con i lavori effettuati di notte. Le due proposte saranno sottoposte all'attenzione del Consiglio regionale. Guardi, abbiamo i termini della convenzione, che sono chiari a tutti, che riguarda dicembre 2022. Proviamo a fare dei miracoli, se ci riusciamo. Altra tematica affrontata, la riattivazione, entro l'estate, della linea ferroviaria Campobasso-Tero. Abbiamo l'impegno da parte di RFI di consentire che ciò avvenga prima dell'estate, o dentro l'estate. E adesso aspettiamo il programma Trenitalia che ci dica in che termini e quando riaccende le tracce, quindi le linee, la tratta, gli orari delle tratte. Interventi interesseranno anche diversi passaggi a livello che interessano il tracciato, in particolare quelli di Campobasso, per non congestionare il capoluogo di regione. Grazie.